In diretta la rassegna stampa di lunedì 30 marzo, buongiorno, ben ritrovati carissimi Cominciamo subito con il santo del giorno, il tempo e poi le notizie Oggi è San Secondo, il sole è sorto le 6.52, Tremonterai 19.33 Vediamo il tempo, oggi avremo nelle ore più calde della giornata brevi rovescio temporali sparsi Nelle zone alto collinari e montane localmente trascinati verso la costa Successivamente dal tardo pomeriggio i fenomeni diventeranno sparsi e si estenderanno al resto della regione Il limite delle nevicate è al di sopra dei 600 metri nella zona settentrionale e 1100 nella zona meridionale Per quanto riguarda martedì, domani, ultimo giorno del mese, precipitazioni rovescio temporali sparsi In esaurimento dal pomeriggio, dalla giornata a cominciare dai settori settentrionali Il limite delle nevicate è al di sopra dei 500-600 metri Tempo stabile indicativamente per tutta questa settimana, a parte martedì Insomma, il resto dovrebbe essere una buona settimana dal punto di vista meteo Allora, andiamo a leggere i giornali adesso Cominciamo dal resto del carlino di Pesaro Tamponi a domicilio, ma qui no Ceriscioli rilancia le squadre antivirus per i controlli nelle case Al nord, purtroppo, dice Ceriscioli, non è possibile La storia di una dottoressa che rientra al pronto soccorso Aveva lasciato il camice per la barca a vela Ora però torna in prima linea Centropagina, buona spesa Ecco i soldi, a Pesaro arriveranno dal governo 500 mila euro L'elenco dei fondi comune per comune Poi ci sono altri 32 morti e 4 non avevano malattie pregresse La sottosegretaria Morani dice Abbiamo offerto alla regione un ospedale da campo Ceriscioli va avanti per la sua strada Miliardi ai comuni, ma è un blef I fondi stanziati dal governo scatenano la polemica dei sindaci delle Marche Soldi che già ci spettavano, dicono Ricci guarda al lato positivo Dai buoni spesa, boccata d'ossigeno per i più poveri A Pesaro 500 mila euro Centropagina, 100 posti alla fiera L'obiettivo è Pasqua Il centro di terapia intensiva da 100 posti letto alla fiera di Civitanova Il progetto è pronto Oggi c'è un vertice con gli impiantisti Si punta ad aprire per Pasqua Intanto il virus nelle Marche provoca ancora morti Ma al nord c'è la prima frenata dei contagi Tamponi a tappeto ma non qui, possibile solo nel sud delle Marche Dice Ceriscioli che rilancia le squadre antivirus che visiteranno i malati a casa Iniziando le cure a domicilio Ma le verifiche sulla positività al nord sono impossibili Le faremo sanitarie, forze dell'ordine Poi su se stesso dice io finora non ho avuto sintomi Il contagio si estende a sud Picchi importanti nel Lanconetano Intanto il picco marchigiano è previsto Secondo Mario Caroli Primario del pronto soccorso di Ierisi Tra due o tre settimane L'aumento dei contagi prosegue costante Il picco potrebbe arrivare anche nella terza settimana nelle Marche E mentre Alessia Morani dice abbiamo offerto alla regione un ospedale da campo militare Il sottosegretario ho informato Dice il governatore della possibilità Del ministro delle difese a Guerrini La struttura di Bertolaso Non voglio polemizzare su questa struttura Ma io avrei fornito l'Iban Dice ancora la Morani Della protezione civile E non quello dell'ordine di Malta Per la raccolta dei fondi da destinare a Civitanova Così come è stato indicato da Bertolaso Il virus uccide in tutte le Marche Ma ora a Pesaro l'epidemia frena Ieri altri 31 morti in quattro province Il totale sale a 417 A nord l'effetto della serrata in anticipo Nella prima zona rossa i casi aumentati in una settimana del 26% Ancona di oltre il 50% La curva risente delle misure di contenimento Che sono scattate in provincia di Pesaro tre giorni prima rispetto alle altre parti In cinque casi i medici non hanno riscontrato Invece sui decessi patologie pregresse Intanto questo è lo schema di tutti i soldi che verranno dati ai comuni I soldi che ha annunciato Conte l'altro giorno L'altra sera in diretta Oltre mezzo milioni per chi ha bisogno A Pesaro boccata d'ossigeno Il sindaco dice si tratta di fondi aggiuntivi Ora stabiliremo le modalità Buoni pasto aiuti alimentari Per chi non riesce più a fare la spesa E come daremo i soldi La parola ai primi cittadini Daremo i fondi alle famiglie Dice Gambini a Urbino Fondi alle famiglie per beni primari La giunta non è rimasta in attesa Sabato sono state già deliberate altre misure Mentre a Fano ci arriveranno 323 mila euro Dice Seri E li integreremo Il governo e la regione si muovono bene Noi siamo antenne affidabili sul territorio Poi pacchi e buoni spesa Le risorse saranno gestite dai servizi sociali Mi licenzi o faccio il giro del mondo Ma ora la dottoressa torna al fronte Elisa Fustini, 43 anni Ha lasciato da parte la barca a vela Adesso è di nuovo al pronto soccorso cittadino Ha mandato un messaggio al primario Nudi Gli ha scritto ma avete bisogno Lui ha risposto secondo te E si è rimessa il camice Ressa di aziende invece per lavorare Più di 487 richieste sono arrivate al prefetto Sono tante le ditte che hanno chiesto Alla prefettura di Peso Urbino Di poter riaprire e lavorare Sono esattamente 487 le comunicazioni Le richieste e le autorizzazioni inviate Dalle imprese della provincia La prefettura informa che è già stato avviato Un confronto con le organizzazioni sindacali territoriali Che nei prossimi giorni verrà allargato Alle associazioni di categoria Case di riposo Il dramma senza fine Operatori terrorizzati Subito i tamponi Sono oltre 30 le vittime Nelle varie strutture della provincia Il numero più alto a casa Aura Il direttore di casa Padre Damiani Dice vogliamo sapere Chi può continuare a lavorare Invece chi no Facce spaventate Restiamo comunque tutti nell'incertezza L'Asur dice I test sono stati fatti La chiesa del cimitero Invece fa spazio alle bare A Fano riparte la cremazione Oggi sarà riattivato l'impianto Che era stato bloccato Il 23 di marzo Altre 13 morti Nella nostra provincia La lista di lutti comuni Comunico per comune In totale nella provincia 255 croci A Pesaro Il triste primato Con 131 decessi Segue Fano con 34 E Valefoglia con 9 In terapia intensiva Ben 48 pazienti Procede il progetto Dei 100 posti letto A Civitanova Intanto Il calcio dilettantistico Ha perso uno dei protagonisti Degli anni 70 Giancarlo Clini Per anni colonna Della società sportiva Gallo Calcio Il luto anche A Pesaro Addio A Osvaldo Livigni Pioniere dell'erboristeria Se ne va il cowboy Gentiluomo Aveva 76 anni Un'attività florida La sua Che per molto tempo Ha gestito Con successo Nell'ufficio Di via Petrucci Buona in spesa Tutte le cifre A Pesaro 500 mila euro Fanno ne avrà 322 mila Urbino 77 Valefoglia Oltre 106 mila Ma ecco l'elenco Degli stanziamenti Comune per comune Le decisioni Aumentate Le risorse Per la città Ricci dice Stabiliamo i criteri Di suddivisione Domani La decisione Morire senza conforto Degli affetti La pagina di Fano Del Corriere E questo è il doppio dolore Del virus Il pensiero del sindaco Massimo Seri E del vescovo Armando Trasarti Per le vittime Dell'epidemia Preghiera E riflessione Città mai così svuotate Vita risucchiata In casa Pesaro e Fano Deserte silenziose Nella quarta domenica Del tempo Sospeso dal virus Del virus Realità straniante Con il settore Della natura Che si risveglia Pochi trasgressori Al sole E poi attenzione Le truffe Falsi avvisi A liberare le case Per sanificare La polizia postale Informa che i truffatori Stanno affiggendo All'esterno delle case Falsi avvisi Dal ministero Dell'interno Per chiedere Lo sgombero Delle abitazioni Ai fini di una sanificazione Non c'è nulla di vero È un inganno Per svaliggiare Gli alloggi E poi La valle del Cesano Con Mazzanti L'allenatore di volley Davide Mazzanti Allenatore nazionale E la judoca Lucia Morico Insieme Stiamo distanti Ma uniti Due personaggi Sostengono la campagna Del comune Di Mondolfo Intanto Sebastianelli Saluta la nascita Di tre neonati E va in diretta Il sindaco Di Terra Roveresche Alle 12 Risponde Ai cittadini E sotto Da San Lorenzo In campo Invece Il cuore Degli amici tedeschi Batte per la nostra Sanità Donazione Dagli abituali Ospiti di San Lorenzo E da altre Personalità Senigallia L'ultima pagina Della nostra Segna stampa Corriere Adriatico Pensa di guidare L'auto Ma è un camper E così si incastra Al sottopasso Del lungomare Incidente Che è accaduto In via Perilli Era andata A fare la spesa Con il veicolo Della madre Lei dice Passo spesso Di qui Non ci pensavo Che in realtà Non stavo guidando La macchina Ma stavo guidando Un camper E quindi C'è rimasta sotto La rassegna stampa Finisce qua Grazie per averci seguito Vi auguro una buona giornata E vi do appuntamento Questa sera Alle 20 e 30 Con occhio alla notizia Il telegiornale Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.